Anche la provincia di Pescara naturalmente è presente con i suoi sindaci, è stato un giorno importante e soddisfatti di questo incontro, riporteremo a casa qualcosa? Abbiamo per il momento depositato al tavolo del governo, alla nostra rappresentanza che ci ha incontrato, e cioè il sottosegretario De Micheli, un dossier dettagliato che contiene 100 milioni di euro necessari per intervenire sui comuni della provincia di Pescara, che sono 46, e in più viabilità provinciale ed isa scolastica, e altri 90 milioni necessari per mettere in sicurezza gli edifici scolastici di tutta la provincia. È un tema molto impegnativo per il quale il governo deve assolutamente arrivare a trovare la soluzione, perché diversamente noi saremo in estrema difficoltà dal punto di vista della sicurezza stradale e della sicurezza anche degli edifici per quanto attiene l'attività scolastica ordinaria. Quali sono i comuni del Pescarese maggiormente in ginocchio in questo momento? Maggiormente in ginocchio noi ne abbiamo 46, dei quali per diversi aspetti ognuno ha precarietà. Tra questi ci sono comuni già ammalorati dalle precedenti condizioni atmosferiche negative del 2015, che sono Villa Celiera, Civitella, Casanova, adesso si aggiunge Penne, Farindola, ci sono comuni quali Brittoli, ci sono comuni che riguardano anche aree più distanti dalla città di Pescara, che avvicinano sul versante della Maiella, comuni che mancano di ogni prospettiva in termini di messa in sicurezza del territorio. Ecco, su questo noi chiediamo l'impegno del Governo e lo abbiamo chiesto ai nostri parlamentari, affinché facciano valere la vertenza Abruzzo al pari di altre regioni italiane.